oh è molto locata non si che ti hai preso ho messo me e per fargliere allo stomaco Valentina, il primo abito si era tesissima glielo facevo indossare per lei era proprio importante bello, come sai mentre glielo stavo facendo indossare mi ha proprio detto il matrimonio si sta veramente avvicinando sempre di più è vero, adesso sono i primi segnali concreti si, è vero, ci mancava appunto il vestito che carina però mi hai fatto veramente una bella vinda sono molto emozionata provare l'abito è sempre una non immaginavo un'emozione così grande è il tuo primo abito? la mia prima volta, si oh Dio, mi sento il cuore in gola sono allocenatissima e se ti stai emozionando sul mio primo abito allora la vittoria non è un'emozione è bello mi piace la stoffa mi piace mi regole crede, Anna, via ma alla fine mi hai fregato guarda Francesco sono bello, sì guarda tanto una bella sirena ma non è una sirena è l'alentino che è semplice che sta giocoporto, quindi non è una sirena no, mi ricordi che vinci bene fa molta luce a sé ma vediamo un po' gli altri però sono partiti molto bene mi devo ricrevervi su questo anche se guarda che io me ne intendo e non poco perché il mio babbo era un sarto e se sangue non mente chi l'ha scelto? Valentina? io penso la mamma mamma? sì per la semplicità per la semplicità anche secondo me la mamma scuro bene ragazze andate a provare il prossimo vediamo Valentina abbiamo rotto il ghiaccio adesso puoi respirare bellissima veramente bellissima non perché è il minimo ma devo dire devo dire anche io che bella perché ho molta classe in queste cose